Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite perché volevo mostrarvi alcune skin esclusive che ho ottenuto gratuitamente e volevo spiegarvi come ho fatto La prima è proprio per Cussore Nuvola, questa skin qui che è davvero molto molto carina ha anche un suo dorso decorativo Tra l'altro ragazzi io non so se ci avete fatto caso ma questo dorso decorativo ha il simbolo degli spettri dietro Questa cosa potrebbe essere abbastanza interessante ma chissà, poi magari ne riparleremo Ribadisco skin davvero molto molto carina che ho ottenuto gratuitamente e dopo vi spiego come ho fatto anche perché è una skin esclusiva Prima però vi ricordo che potete supportarmi nel negozio oggetti di Fortnite col mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato, grazie davvero di cuore per il supporto ragazzuoli Tra le altre cose nel negozio oggetti per la prima volta hanno creato una schermata del genere per presentare delle nuove skin Infatti è stato fatto apposta per queste nuove skin di The Walking Dead Che tra l'altro costano meno di una skin leggendaria ma più di una skin epica Però se ci andiamo a cliccare come rarità ci dà appunto la rarità epica Boh, sta cosa non l'ho capita ma va bene Tra le altre cose ci sta anche tutto il set, regà, quindi penso che poi andremo a shoppare questo Ovviamente ribadisco col mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato Poi nel negozio oggetti continuiamo, ci sono ancora un po' di cose ovviamente Ci sono ovviamente ancora tutte le cose natalizie anche se stanno togliendo alcune robe natalizie perché alcune già non le vedo più per esempio E non so per quanti giorni rimarranno queste qua di The Walking Dead, regà, non ne ho la più palle di idea Ma noi nel dubbio le shoppiamo ovviamente Shoppiamo l'intero pacchetto anche perché conviene shopparlo tutto quanto se le volete shoppare tutte Tra l'altro molto belli i dorsi decorativi e i picconi, tanta tanta roba, ci sta come set Non credo neanche che sia l'ultima volta che vedremo una schermata del genere perché penso che da ora in avanti lo presenteranno sempre così Qualsiasi altra skin speciale che verrà messa appunto nello shop Ma detto questo andiamo a startare una partita e vediamo un po' percussore nuvola come si comporta in game Ribadisco è molto molto carino come skin Ora non mi fa impazzire il dorso decorativo però effettivamente così in game non si nota neanche più di tanto Sembra un tutt'uno con la skin Però sono curioso di provarla anche senza dorso decorativo perché lo sapete non è che sia poi un amante proprio dei dorsi decorativi Comunque io direi di andare verso foresta frignante anche oggi per vedere se è successo qualcosa al portale di The Walking Dead Tanto poi dopo dobbiamo vedere altre skin ragazzi tranquilli ne abbiamo di tempo oggi Ok ragazzi stiamo scendendo verso foresta frignante non mi sembra sia successo nulla al portale di The Walking Dead Comunque se non sapete di cosa sto parlando ragazzi riguardatevi il video di ieri dove vi ho parlato per filo e per segno del punto zero e di quello che cosa sta succedendo Quindi se vi foste persi il video di ieri recuperatevelo Comunque regà direi di farci questa super mega cassa bella carina Niente abbiamo trovato il pompa epic Regà Me l'ero completamente persa sta cosa Mannaggia la miseria Non ci stavo ripensando e qui ci sono le guardie Rip regà ora mi asfaltano di brutto Sto provando a fare matrix se non si fosse capito ma mi sa che Non ci riuscirò tanto a lungo Raccogliamo un po' di funghetti Tanto mo questi qua mi pushano fino alla fine della partita regà state tranquilli Niente regà mi stanno ancora a sparare io non ho parole guardate quanto sono lontani Guardate quanto sono lontani mi stanno ancora sparando va bene Comunque qua giù c'è un falò regà ci facciamo il falò Intanto vi spiego come sbloccare gratuitamente questa skin esclusiva Innanzitutto è una skin esclusiva perché la può sbloccare soltanto chi ha il playstation plus Quindi soltanto quelli che magari hanno la playstation Non per forza dovete giocare da play perché per esempio io gioco da pc Però ho una playstation e quindi avendo anche il plus nella playstation posso ovviamente sbloccarla comunque E l'ho sbloccata ribadisco gratuitamente Perché basta avere il playstation plus andare nel playstation store E praticamente ci sarà proprio il pacchetto che voi potrete scaricare gratuitamente E niente ve la ritrovate semplicemente nel vostro armadietto E direi che ne vale proprio la pena perché è molto 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 carina Tra le altre cose ragazzi non si capisce ancora i regali di natale come quando inizieranno Siamo praticamente il 17 dicembre e sappiamo con certezza che ci sono i regali di natale Perché sono stati trovati nei file di gioco ne abbiamo parlato sempre nel video di ieri Ma ancora non sono iniziati Tra le altre cose sappiamo perfettamente che ci sono due skin tra i vari regali di gioco Ben due eh quindi Ma no aspetta Ah ma ce n'è un altro Sono due Ecco perché non capivo Ecco perché non capivo raga Cioè ho visto uno volare in alto E poi ho visto che mi ha preso qualcun altro con i colpi Ora parliamo meglio del Di questa situazione Come faccio ad avere così tanto metà Ah giusto si ho fatto Cioè regà Ma non l'avano potenziato sto fucile a pompa In headshot da così vicino gli ho tolto 64 È veramente inutile sto fucile a pompa Fa veramente schifo Ma più che altro toglie poco e ci mette 20 anni a ricaricarsi Che senso ha quest'arma Giusto perché non ho trovato altri fucile a pompa perché se no lo lasciavo immediatamente Comunque regà un bel voto a questa skin Un 8 e mezzo regà ci sta è davvero molto carina Poi ribadisco il fatto che è gratuita è ancora meglio Passiamo alla prossima skin esclusiva Sempre gratis E poi finiamo di parlare dei regali di Natale Con quelle altre due skin che dovrebbero uscire L'altra skin esclusiva ragazzi è quella di Halo Che ha questo stile che appunto è esclusivo Ovviamente direi di andargli a togliere il dorso decorativo Il dorso decorativo di Halo E tra l'altro mi sa che è ancora buggato Quindi lasciamo stare Ed il piccone anche se non mi piace Mettiamoglielo Va bene Il deltaplano mi rifiuto Quello di Halo non mi piace per niente Allora ragazzi Come ho fatto a sbloccare questo stile gratuitamente? Nel senso che la skin costa nel negozio oggetti E va bene L'avreste dovuta shoppare nel negozio oggetti Ma poi questo stile tutto nero Che a mio avviso è molto più figo di quello normale standard Io l'ho potuto sbloccare gratuitamente E se prima era una skin che si poteva sbloccare su Play Questa volta parliamo di Xbox Però purtroppo a differenza della Playstation Che bastava avere anche una Playstation 4 Perché bisognava semplicemente avere il Playstation Plus Per sbloccare questo stile di questa skin di Halo Bisogna avere o un Xbox Serie X O un Xbox Serie S E vi basterà loggare nel vostro account di Fortnite Cioè lo sapete io ho già fatto il video sulla mia Xbox Serie X Io semplicemente ho loggato col mio account Sono entrato e l'ho sbloccata gratuitamente Davvero molto molto figa E tra poco andiamo invece a parlare delle altre skin natalizie sempre gratuite Tra l'altro ragazzi finalmente la neve si sta un attimino espandendo Quindi direi di andare a vedere l'ago languido innevata Guarda che carina regà Dall'alto rende un sacco eh Dall'alto rende veramente veramente tanto Che bella Detto questo ragazzi Allora come vi stavo dicendo Le skin che si sbloccheranno gratuitamente durante il Natale Sono due e sono entrambe gratuite Uno è il pupazzo di neve Quindi il nuovo boss che hanno aggiunto tra l'altro l'ultima pezza di Natale Che si trova proprio qui nella zona innevata Sarà proprio una skin e farà parte delle varie sfide natalizie Che si potranno poi sbloccare gratuitamente L'altra skin invece ragazzi è questa ragazzotta qui Che mi piace tra l'altro E' molto carina anche lei E non vedo l'ora ragazzi di sbloccarle entrambe Ma non vedo l'ora di sbloccare tutte le skin natalizie Che devono ancora uscire E ribadisco Quindi abbiamo parlato praticamente soltanto di skin gratuite Ora l'unica che non era proprio gratuita E' questa qui dialo Perché purtroppo dovete avere anche La skin quella sua Proprio che si shoppa nel negozio oggetti Però poi lo stile appunto si sblocca gratuitamente Uh regà la fiocina non è male Ma la pistoletta si regà Io la pistoletta non la so utilizzare Però ci ho provato regà Ah Ah mo si accanito con me Che cattivone regà Un ca... Vabbè ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Allora Uh flopperigno Ok no mi sa che non ce l'ha più con me Spero Altro flopperigno Mazza Otto flopperigno abbiamo beccato Ma ci sta pushando Non ho capito Perché ce l'ha ancora con noi Che cacchio è successo What Perché era questa esplosione Regà ho presente finito i materiali Ma mi voglio pushare sto tipo qui Cosa sta succedendo Ma qui fuori Gli ho rubato la kill Che sono ste esplosioni Eh non ho più materiali boys Proviamoci a fare al volo Sti mini shield L'ho visto L'ho visto Ma Dove mi sta sparando Regà Da lì dentro Sì Eccolo lì Ai 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 Regà è quello di prima Io lui non lo riesco a prendere Non lo so perché da prima Non riesco a prenderlo Non ho tanti materiali Per provare a pusharlo Però ci devo provare Regà Annaggia Ho beccato pure La sua finestrella Maledetta Avevo beccato anche La sua finestrella Maledetta Dove sei? È sceso Io ti salto In queste situazioni Si sale bro Dove sei? Ah Sei qua sopra? Ah Mannaggia la miseria ragazzi Ho provato a prendere Le netshot Ma le ho tolto pochissime Questa è mezz'ora Che stava sparando E non ha killato nessuno Io ero già due kill Pappappero Comunque ragazzi Le skin gratuite Sostanzialmente Erano queste Quelle di Natale Le stiamo ancora attendendo Non so come Quando usciranno Ribadisco Sono abbastanza perplesso Perché siamo al 17 dicembre E ancora non si sa Nulla di questi regali Se non appunto Il fatto che le abbiamo Già trovati Nei file di gioco Quindi sicuramente Ci saranno L'ultimo giorno Disponibile Penso sia domani Perché domani Inizia effettivamente La settimana di Natale Perché dal 18 Iniziano poi Sette giorni Per arrivare a Natale E boh Non avrebbe senso Iniziare a fare Regali di Natale Oltre il 18 Perché comunque Ho visto La lista Delle cose Che si possono sbloccare Tramite le sfide natalizie Sono davvero tante Boh regà Non so come gestiranno La situazione Io vi ricordo E potete utilizzare Il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti Fortinet Per supportarmi Mi raccomando Iscrivetele esattamente Così come lo leggete Davvero molto bello Questo nuovo set Di The Walking Dead Davvero molto Molto carino Merita Soprattutto i picconi E dorsi decorativi Per la prima volta Posso dirlo Tra queste skin Gratuite Sicuramente la mia preferita È quella percussore Nuvola Che abbiamo utilizzato Nella partita di prima Davvero tanta tanta roba Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi